salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video finalmente ragazzi è arrivato il momento ormai ci siamo manca veramente poco al lancio del nuovo mini drone di casa dji praticamente il punto di riferimento di quello che saranno questi mini drone sotto i 250 grammi alla fine di questo mese dji dovrebbe presentare questo suo nuovo gioiellino con caratteristiche importanti per un drone di questa fascia di dimensioni quindi o meglio di questa fascia di peso praticamente caratteristiche da droni molto più importante a livello di dimensioni e peso ma tutto rimpicciolito in un mini drone che pesa meno di 250 grammi le caratteristiche ormai sembrano definitive come succede per i prodotti apple anche qua quando un prodotto sta per arrivare sul mercato diciamo un iphone sta per arrivare sul mercato praticamente un mese prima circa si sa già praticamente tutto e quando poi il prodotto viene presentato si accorge che veramente quello che è stato detto un mese prima nei vari rumors è quello che poi è il prodotto definitivo e con dji succede più o meno la stessa cosa quindi anche qua i rumors che ormai ci sono dovrebbero essere proprio quelli definitivi al 99% queste caratteristiche che tra poco vi elencherò saranno la versione definitiva del nuovo dji mavic mini le caratteristiche ragazzi sono che avrà sicuramente un radiocomando perché girava anche la voce che non avesse un controller invece avrà sicuramente un controller avrà un range di 5 km in fcc quindi tantissimo soprattutto se lo pensiamo su un drone di dimensioni veramente ridotte avrà una durata della batteria di 18 minuti circa quindi anche questa se lo associamo ai 5 km di range è qualcosa di un po' imbarazzante nel senso che comunque abbiamo un range pazzesco in fcc è sempre è una batteria che ovviamente non può durare molto di più perché le dimensioni sono veramente ridotte avrà un gimbal stabilizzato su due assi meccanici più un terzo elettronico e avrà una fotocamera in 4k 30 fps o in 2,7k 60 fps o a 1080 120 fps quindi le risoluzioni disponibili saranno queste la fotocamera sarà da 12 megapixel avrà una velocità massima di 50 km orari circa e finalmente sembra ormai quasi sicuro anche il prezzo che sarà di 399 dollari quindi 400 dollari circa dovrebbe essere il prezzo di lancio di questo nuovo gioiellino di casa dj ai non sta a me dire se è tanto se è poco se dj ai come al solito diciamo calca la mano sui prezzi ditemelo voi nei commenti cosa ne pensate però sicuramente questo nuovo gioiellino di casa dj ai sarà il punto di riferimento per il nuovo regolamento europeo per i droni sotto i 250 grammi perché ovviamente nessuno fino adesso aveva mai creato un prodotto del genere è il primo prodotto che pesa veramente poco che rientra nel regolamento europeo che agevola i droni sotto i 250 grammi quindi sarà veramente il punto di riferimento per tutti gli altri marchi che vorranno competere con dj ai in questa fascia di peso quindi ragazzi se questo video in cui vi ho portato le caratteristiche quasi definitive o al 90 per cento definitive o forse anche di più del 90 per cento definitive di questo nuovo prodotto di casa dj ai o meglio il gioiellino di casa dj ai il dj ai mavic mini vi è piaciuto lasciato un grosso pollice su iscrivetevi al canale telegram offerte sono avete ancora fatta e se vi va ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere in alcun video un volo recensione un test ciao ragazzi